Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Allora io oggi vi vorrei parlare del mio problema con youtube Allora io dei giorni fa avevo installato un file E da quel che ho capito conteneva un malware Che con questo malware loro mi fanno pubblicare video su youtube Perché tipo io tre giorni fa ho pubblicato un video Poi ho installato sto file che non pensavo che ci fosse un malware dentro E dopo tipo il giorno dopo mi ha pubblicato tipo una decina di video non miei Che promuoveva truffe nei link della descrizione c'aveva dei file con i virus E se io vado qua guardate io ho gli screenshot Ora li ho tolti ma ogni volta che li tolgo poi li ricompaiono dopo un paio di ore Allora aspettate Ecco ragazzi tipo prima Io qua stavo caricando il nuovo video che appena uscito Tra l'altro andatevo a vedere E subito dopo averlo caricato youtube Cioè non è il youtube ma il malware che ho preso Ne ha pubblicato quest'altro video che poi ho subito rimosso Però tipo due giorni fa Ne ha tipo caricato dieci video non miei che promuoveva truffe Aveva dei link con dei virus in descrizione Li ho tolti e ora quando carico i video Mi ricompaiono e mi ritocca toglierli e fare tutto sto casino Io ora sto provando a contattare l'assistenza di youtube Ecco se io provo a contattare l'assistenza di youtube Andando qua e andando in via feedback Lui mi dice Errora 404 Non ho l'accesso a questa pagina Non so se è successo anche a voi Cioè se fa così anche a voi Però ho notato che mi fa sta cosa E non mi fa contattare l'assistenza Quindi volevo informarvi che se vedete dei video Che promuove truffe o roba del genere Nel mio canale Non sono io a pubblicarli ma sto malware qua Se riesco poi li risolverò E niente Vi informerò quando avrò risolto Bella La notte Non sono io a pubblicarli ma sto Ancina